Un'estate sicura per residenti e turisti è ciò che i carabinieri della Compagnia di Sapri vogliono garantire al Golfo di Policastro. Intensificati dunque i controlli straordinari lungo le arterie principali del territorio per mettere in sicurezza l'afflusso dei turisti e far star tranquilli i residenti. Un presidio a 360 gradi che va dal rispetto del codice della strada ai controlli nelle attività per monitorare che non vengano venduti alcolici ai minorenni, passando per eventuali truffe a danno di persone fragili come gli anziani. L'arrivo dell'estate rende il territorio maggiormente vulnerabile e così, grazie anche ad un personale rinforzato, la Compagnia dei Carabinieri di Sapri riesce a tenere sotto controllo il territorio del Golfo di Policastro, soprattutto in vista dei maggiori afflussi in questa settimana di ferragosto. I numeri già in questo primo mese e mezzo estivo, anzi per noi l'estate inizia già nel mese di giugno, sono più di 6.000 persone controllate, più di 4.500 autoveicoli controllati, sono state arrestate 9 persone, in particolare ricordiamo l'arresto per tentato omicidio a Marina di Camerote, un arresto per droga nella città di Sapri. Sono state effettuate numerose contravvenzioni al codice della strada, circa 700, principalmente per mancanza di assicurazione, per mancanza di revisione, per i sorpassi che sono una causa di incidente che purtroppo è un problema che affligge soprattutto nel periodo estivo questo territorio, pertanto con la prevenzione e la repressione cerchiamo di ridurre l'incidenza anche del fenomeno degli incidenti stradali. Per ferragosto come tutti gli anni ci saranno numerose pattuglie che saranno sul territorio H24, per la movita sicura abbiamo effettuato nell'estate numerosi al coltesta, abbiamo avuto riscontrato una minore presenza di soggetti che sono risultati positivi, tant'è che il numero delle denunce non è altissimo rispetto ai controlli effettuati, questo fa pensare che piano piano le persone iniziano a capire l'importanza del guidare sobri.